Motore! Azione! Do sta sta chiesa? Sta là in fondo. Dalla parrocchia gli hanno dato. E di questo succede quando sai troppe cose che non devi sapere. Infatti. Vuoi di qualcosa? No! Guarda qui. Ragazzi! La fine è stare a morire come tutti gli altri. Come un infame. Sì 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 Aspetta C'è un affare nuovo, grosso Sono una montagna di soldi, non avete mai visti Ve lo posso far avere Io lo posso far diventare ostero un secondo Guardalo Tengo in mente quel più sbagliato Ma guarda, metti, lo metti, lo metti, lo metti, lo metti È un po' Grazie a tutti Grazie a tutti